Ciao a tutti, volevo consigliare vivamente le lezioni online dello ZUCA perché le ho già sperimentate la scorsa primavera durante il lockdown e mi hanno aiutato molto perché in quel periodo non facevo attività fisica e riuscivo ad allenarmi 5 volte a settimana ogni lezione faticavo tantissimo, ero sudatissimo, mi dovevo fare subito la doccia insomma era come andare in palestra e tra l'altro ho avuto anche un grosso giovamento da un punto di vista tecnico perché in ogni lezione si toccavano tanti argomenti attraverso il video si riusciva a vedere bene quello che i maestri ci spiegavano in più le potevo anche registrare per cui me le rivedevo quindi insomma visti i tempi, vista l'impossibilità di poter praticare sport di contatto nelle palestre e questa è una soluzione per me più che valida quindi la consiglio a tutti e spero di vedervi presto tutti online ciao